...si tratta. Io credo che un Paese serio debba poter parlare del merito. La faccenda della Corte Costituzionale della riforma Madia mi sembra emblematica. Il Governo se la prende con la Corte, ma forse se la dovrebbe prendere con se stesso, perché se l'avesse scritta bene quella riforma avrebbe retto all'esame della Corte, la quale Corte Costituzionale fa l'interesse dei cittadini italiani e verifica se le leggi del Governo sono, approvate dal Parlamento e dal Professore del Governo, sono o no costituzionali. Devo correggere il Professore, mi spiace. Posso non essere interrotto. Quando il Presidente del Consiglio porta a Palazzo Chigi la comandante dei vigili urbani di Firenze a vedere come vengono fatte le leggi, forse poi se succede qualche incidente si capisce, perché si punta sulla fedeltà al capo e non sulla competenza. E la stessa cosa succede per la Costituzione. Cioè che mi stai dicendo che sono un po' brocchi quelli che lavorano con Renzi? Allora, ci si chiede di cambiare la Costituzione perché ci si dice che non riescono a governare, come se dei giocatori che non riescono a fare la partita ci dicessero che è colpa dell'arbitro e delle regole. Allora ci chiedono di cambiare la Costituzione. Io credo che ci converrebbe cambiare i giocatori. A proposito di licenze, le licenze dei nostri politici non vanno mai in prescrizione. Prima c'era un sindaco che diceva che ha cominciato a fare campagna elettorale nel 1994, siamo nel 2016. La colpa è della Costituzione se le cose vanno male o la colpa è di chi non sa giocare con le regole e cerca di minacciare le regole. Io sono per il no con una vasta parte di società civile che non ha nulla a che fare con i partiti. Io sono Vice Presidente Libertà e Giustizia, accanto a noi c'è Libera di Donciotti, c'è l'Arci, c'è la CGL. Cosa diciamo? La FIOMMA di Landini. Cosa diciamo? Che questa riforma costituzionale è contro, vuole limitare la partecipazione dei cittadini, limita gli spazi di democrazia e dice che il nostro problema è un eccesso di democrazia. Chi governa ha poco spazio perché si parla troppo, è troppo rappresentato l'interesse dei cittadini. Concentriamo il potere in poche mani e le cose andranno meglio. E noi non siamo d'accordo.